Non certo come comunque quando poi c'è stata l'epoca beat di cui tu parli nel secondo capitolo appunto, che ricordo hai dell'epoca beat appunto legata a Don Baghi? Ma guarda, io tutto sommato mi è sempre venuto un po' da sorridere perché noi altri in Italia a parte Domenico Modugno che è veramente stato un iniziatore, un innovatore della musica leggera il primo vero, vero grande cantautore italiano è Modugno, perché se tu pensi che lui nel 53-54 scriveva canzoni senza ispirarsi a nessuno, a nessuno mai, perché canzoni come Opisci Spada, Asveglietta, La Donna Riccia eccetera non erano certe ispirate a culture di altri popoli, di altri paesi eccetera, è ancora secondo me l'unico grande cantautore italiano che abbiamo avuto, io ho sempre cercato di seguire le sue tracce diciamo così, rivolgendomi e facendo sempre delle musiche che avessero dentro una italianità prima di tutto, ecco volevo dire questo che il beat qui da noi in Italia non è stato altro che fare delle cover di brani di grandi successi che negli Stati Uniti o in Inghilterra erano già esplosi, erano diventati grandi successi, arrivavano qui da noi e c'era il gruppo più o meno che arrivava prima su quel pezzo e lo incideva con un testo in italiano e ne faceva un successo qua in Italia, per cui noi all'epopea beat diciamo non abbiamo portato assolutamente alcun contributo e questo io cercavo di stigmatizzare anche attraverso canzoni tipo Serenata per esempio dedicata ai capelloni dove intendevo proprio fare una critica, un appunto a questo modo di fare, portavamo i capelli lunghi perché era di moda ma sotto ai capelli non c'era stato lo stesso movimento culturale che era stato in Inghilterra o negli Stati Uniti, si facevano crescere soltanto i capelli, punto e basta e allora io dicevo è inutile portare i capelli lunghi se poi sotto non ci sono idee, non c'è niente, non c'è altro che copiazzare quello che fanno gli altri, ecco questa era l'intenzione che avevo messo in Serenata, solo che a quel tempo sai non andava molto il testo che volesse in un certo modo anche essere un messaggio. Ti ispiravi un po' a quella che era l'epoca poi segnata diciamo a livello dei locali dal Piper che tra l'altro ha compiuto 40 anni proprio l'altro anno, due anni fa, 42 anni quest'anno. Sì sì, erano appunto, erano movimenti che non erano spontanei qui da noi, come oggi il rap per esempio, non c'entriamo assolutamente niente noi come cultura diciamo, noi siamo mediterranei, parte la breakdance americana certamente, per divertimento si può farlo i ragazzi, però quando sarà passato non avrò dato niente, fra 30 anni quando domanderanno a qualcuno che cosa ha portato il rap qui da noi o la breakdance eccetera nella nostra cultura, non ha portato assolutamente niente, abbiamo sfruttato quel momento, abbiamo venduto un po' di dischi, forse qualche complesso ha fatto le serate a cachet alti e probabilmente immeritati anche, ma oltre a questo che cosa ha portato di innovazione nella nostra musica leggera che dicevo prima appunto essere soprattutto mediterranea, quindi melodica e armonica a differenza di quella ritmica che arriva tipicamente dai paesi anglosassoni o dagli Stati Uniti, siamo stati degli scopiazzatori come sempre. Invece per chiudere, qui sicuramente non c'è stato nessuno scopiazzare, c'era una volta il clan, un altro capitolo molto bello del libro, poi magari chiaramente approfondiremo tutto il tema del libro nella puntata che dedicheremo proprio interamente a te e al tuo libro. Per concludere volevo parlare un attimo di questo terzo capitolo che ha per titolo C'era una volta il clan, qui naturalmente non c'è nulla di scopiazzato, qui è tutto originale. No, assolutamente, ovviamente per far capire a chi sta ascoltando il libro si intitola Questa è la storia ed è composto da tre grossi capitoli, il terzo ha il titolo che hai appena detto tu perché in fondo in questi 15 anni, cioè dal 55 al 69, c'è stato anche il periodo della mia appartenenza al clan e pertanto ovviamente gioco forza ho dovuto raccontare anche quel periodo. È stato un periodo straordinario in quanto a creatività perché in effetti abbiamo cercato sempre di fare qualche cosa che fosse, come dire, nostra, radicalmente nostra, capisci, italiana. E in un certo senso ci siamo anche riusciti, siamo stati un punto di riferimento per molti ragazzi di quel periodo i quali si ispiravano a noi anche per la moda, così ricorda i pantaloni a zampa d'elefante, queste cose un po' estemporanee che noi cercavamo in qualche modo di lanciare attraverso il nostro abbigliamento, eccetera. E la musica era quella appunto che aveva in sé i germi di una musica che fosse italiana. Ora io parlo per me evidentemente perché canzoni come Cara, come L'amore e poi in seguito L'immensità, Poesia, queste cose qua, certamente hanno in sé i germi della melodia e dell'armonia tipicamente mediterranea. Ecco perché dicevo prima, io ho sempre cercato di magari innovarla, ma sempre stando nel solco di una tradizione che secondo me ha avuto proprio il capo stivite in Domenico Motugno. Certo, tu hai diviso la tua storia musicale un po' in tre grossi periodi, rock'n'roll, storia di una strada beat, c'era una volta il clan, a quale sei rimasto più legato? Ma sai, è la mia vita, la mia storia, quindi così dal punto di vista sentimentale sicuramente al primo. All'inizio del rock'n'roll, gli amici certo? Sì, certo, perché intanto avevo 16 anni quando è arrivato il rock in Italia da noi e quindi i sogni sono partiti lì e sono cominciati insomma. Invece professionalmente? Professionalmente, certamente il periodo in cui ho fatto parte del clan è stato il periodo centrale, quindi il periodo anche più fecondo, più creativo, eccetera. Le più belle canzoni, non soltanto per me, ma anche magari per altri, sono nate in quel periodo. Pertanto insomma, diciamo, le più belle, ora intendiamoci, quelle che hanno avuto la fortuna di avere forse più successo, ecco. Pertanto insomma... Infatti io sulle tue canzoni non parlerei di più belle, sono veramente tutte molto belle. Sì, poi ci sono delle scuse, delle canzoni che hanno magari più fortuna di altre perché magari sono più promozionate, hanno più possibilità di farsi sentire in televisione, in radio, avere recensioni sui giornali. Poi a un certo punto succede che c'è un cortocircuito fra me e i media, non so per quale motivo, ma insomma è evidente che c'è stato e allora le canzoni, se le persone non possono più assentirle o ascoltarle, è evidente che non è che possono immaginare che io ho scritto altre canzoni. Oggi mi ha fatto ascoltare comunque Totò, perché è una canzone che ci sembrava doverosa, appunto da questo penultimo alu, mi sembra, Signori si nasce, io lo nacqui. Quale film dicevi che avevano fatto vedere? No, l'altra sera hanno fatto Totò e Cleopatra, però hanno dedicato all'inaugurazione dell'isola del cinema, appunto, che è questa kermesse estiva sull'isola del Tiberina, hanno dedicato proprio a Totò l'edizione di quest'anno, e allora a questo punto mi sembrava doveroso far ascoltare tra le tue canzoni, Totò tra l'altro è una canzone molto bella, e mi piace moltissimo. Ho capito. Prima, invece adesso, arriverei ancora alla storia, perché effettivamente, quando ci lasciamo adesso, io farei ascoltare, visto l'hai citata tu stesso, appunto in questa nostra, anche intensa, ma anche se breve, conversazione, che appunto serenata, appunto, io la vorrei far ascoltare questa, se sei d'accordo. Sì, sì, tra l'altro, anche per giustificare quello che ho detto prima, insomma. Certo, in realtà ti citavi proprio questo, perciò mi sembrava doveroso far ascoltare questa. Perciò passiamo da una canzone nuova, ma anche una canzone storica, appunto, di Don Bacchi. Molto bella appunto serenata, io ti ringrazio tantissimo, comunque...